Musica Videonews di giovedì 26 settembre, i titoli Fatale uno scontro frontale tra due auto, muore una donna di 37 anni, originaria di Urbisaglia Al teatro Nicola Vaccai di Tolentino, sold out per la serata Mogolle racconta Mogolle Scolinare Film Festival è la seconda edizione a Tolentino dal 4 al 6 ottobre prossimi E nello sport rinsaldato il legame tra il gruppo medico Fisio Med e Volley Macerata Ben trovati anche quest'oggi all'appuntamento con il Videonews Fatale lo scontro frontale tra una Range Rover ed una Lancia Ypsilon Muore una donna di 37 anni, originaria di Urbisaglia Il triste bilancio di un incidente avvenuto proprio oggi, prima delle 12.15 Lungo la Carrareccia, che collega Macerata a Piediripa Un tratto poco distante dalla sede direzionale della Banca Macerata Sul posto i sanitari del 118 e della Croce Rossa Che hanno prestato le prime cure ai occupanti delle vetture Ma per la conducente della Lancia, la 37enne, non c'è stato purtroppo nulla da fare La donna è stata trasferita d'urgenza in aliambulanza all'ospedale regionale Torrette Ma le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche Tanto che è spirata poco dopo il ricovero Praticamente illeso invece il conducente dell'altra auto Con una breve ma intensa cerimonia L'amministrazione comunale di Val Fornace ha reso omaggio al luogotenente Pier Alberto Diamanti, comandante della locale stazione dei Carabinieri In occasione del suo pensionamento L'amministrazione ha consegnato una targa ricordo al luogotenente Esprimendo gratitudine per i tanti anni di servizio dedicati alla comunità Un gesto che testimonia l'importanza del lavoro svolto dal comandante Nel garantire la sicurezza e nell'offrire aiuto Anche durante l'emergenza sisma ai cittadini di Val Fornace Al via nelle Marche lo screening neonatale per l'asma Atrofia muscolare spinale Una patologia neuromuscolare rara caratterizzata dalla progressiva degenerazione Di moto neuroni spinali che porta ad una paralisi muscolare progressiva E alla perdita del controllo volontario del movimento Questo contribuisce a prevenire la grave disabilità associata alla malattia Il programma di screening neonatale stesso è un'attività di medicina preventiva secondaria Che ha lo scopo di selezionare patologie in fase presintomatica Con notevoli vantaggi in termini di salute e con risparmio di risorse Lo SNE viene effettuato tra le 48 e 72 ore di vita Mediante un prelievo di sangue dal tallone del neonato E depositato su un apposito cartoncino di carta assorbente Voltiamo pagina perché è stata presentata a macerata la lista provincia al centro Che concorrerà alle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio provinciale Di domenica 29 settembre Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle 20 Nell'unico seggio costituito nella sede della provincia In corso della Repubblica numero 28 Ma scopriamo di più nel servizio Presentata nella sala stampa della provincia di Macerata Mercoledì 25 settembre La lista provincia al centro Che si pone come un'alternativa di stampo civico Alla contrapposizione tra destra e sinistra E cerca di raggruppare le istanze del territorio Attraverso una vasta rappresentanza delle diverse aree La lista numero 3 Mette la provincia al centro È il nostro motto Perché fino ad oggi la provincia non è stata al centro Purtroppo anche per una deformazione della normativa nazionale Che ha penalizzato enormemente quest'ente di aria vasta Ma che invece è estremamente necessario Per poter valorizzare un territorio Noi abbiamo perso degli anni Perché la disgregazione Cioè il fatto che i comuni devono lavorare autonomamente Non c'è nessun sistema di raccordo Non è stato creato neanche da chi ha governato la provincia Un modello di raccordo tra gli enti locali Quindi la nostra lista vuol fare questo Vuol dare dei compiti al di fuori Di quelli che sono le poche competenze istituzionali Ma di ritornare a fare il coordinamento del territorio Per valorizzarlo sia dal punto di vista economico Turistico Ma soprattutto Diciamo così Rendere più forti i piccoli comuni Soprattutto quelli dell'endorterra Che stanno spopolandosi eccetera Riservando loro delle attenzioni maggiori Di quelle che sono state riservate fino ad oggi La nostra lista appunto Provincia al centro Vuole dare valore a quello che è questo ente della provincia Che per tanti anni ha svolto una funzione essenziale Poi con la riforma del Rio 2006 Ci ha un po' perso quella forza sul territorio Ma nonostante questo Può giocare un ruolo molto importante Anche oltre le deleghe che possiede Come l'inizia scolastica L'ambiente L'urbanistica Perché bene o male C'è bisogno di un ente Che faccia la trade union Tra i comuni Soprattutto quelli più piccoli Come diceva Franco E la regione Marche Quindi ecco Dal momento che la nostra è una provincia Che da sempre risente Un po' Dello schiacciamento Tra il sud delle Marche E il nord delle Marche Abbiamo bisogno di amministratori forti Che in consiglio provinciale Portino Le istanze di tanti comuni Portino tutte quelle necessità Anche molto spesso I comuni hanno bisogno di linee guida Sui progetti europei Il nostro programma punta molto Anche sul discorso Dei finanziamenti europei Che possono arrivare nel territorio Quindi ecco È un'opportunità in più Che diamo agli amministratori di scelta Tra la sinistra e la destra Che sono candidati Al rinnovo del consiglio provinciale Proprio perché c'è necessità anche Di coinvolgere tanti amministratori civici Che non hanno un colore politico E che hanno bisogno Di avere un punto di riferimento Io ho accettato molto volentieri Questo invito A far parte di questa squadra Di questi sette candidati Per il consiglio provinciale Perché un po' Diciamo Rappresenta l'obiettivo Che io mi ero posto anche Con la mia candidatura A sindaco di Cingoli Raggruppare Diciamo Le persone Volenterose Vogliose Di dare un cambiamento Alle modalità Di gestione Della cosa pubblica E questo Diciamo È stato Quindi quando I promotori Calamita Capponi Sclavi Mi hanno proposto Di far parte di questa squadra Ho accettato Di buon grado Perché i problemi Sul nostro territorio provinciale Sono molti Sono importanti Sono delicati E impatteranno In maniera notevole Negativamente Se gestiti male Sui cittadini Della provincia Immaginata La nostra provincia È una provincia Ricca Ricca di storia Di tradizione E quindi sono Tutte cose Inserite tra l'altro In un ambiente Paesaggistico Unico e peculiare Che sono per noi Dei tesori Da custodire E da valorizzare Il comune di Macerata Nei confronti Dei comuni Del territorio Sono come se fossero Un tutt'uno Sono strettamente Connessi tra di loro Quindi Il benessere E la prosperità Dell'uno Non può prescindere Da quello Degli altri Per questo motivo Dopo aver appurato Una condivisione Di sensibilità E di obiettivi Con gli altri componenti Della lista Ho deciso Di candidarmi Con la lista Provincia al centro La provincia al centro Proprio per dimostrare La nostra Modo di pensare Insomma Siamo la maggior parte Personaggi politici Civici Legati All'essere Moderati E centristi Crediamo Che possiamo In qualche maniera Portare la nostra voce Il nostro apporto Anche a una provincia Che ha tanti temi Che bisogna Tenere sotto controllo Soprattutto che bisogna In qualche maniera Sviluppare Come i rifiuti Quindi l'ambiente Come l'acqua Come la sanità La scuola Insomma E la provincia Con il riordino del rio Ha avuto un riassetto diverso Però è sempre Un luogo importante Dove poter Portare sul tavolo Gli interessi Delle comunità Che si sviluppano intorno Oggi stiamo a presentare La nostra lista civica Una lista fatta Di amministratori Che lavorano Per il territorio E per i cittadini E penso che sia L'alternativa A una politica Fatta di ideologie Ed oggi dobbiamo Portare una politica Pragmatica E fattiva Nel nostro territorio E il nostro programma Sarà sicuramente Efficace Per questa nostra provincia Come è stato detto Anche nella fase Della presentazione L'idea Di un approccio Come dire Costruttivo Al buon governo Nella provincia Con un approccio Di tipo razionale Quindi Noi come consiglieri Uscenti Ci siamo fatti Diciamo da parte Per poter consentire Ad altri amministratori Del territorio Di poter Mettere al servizio Di tutta la provincia Di Macerata Di tutti Diciamo gli abitanti Un servizio Appunto Di buon governo Di buona amministrazione Con un approccio Di tipo costruttivo Di idee Di proposte E di ragionamenti Da fare insieme Sono nata e cresciuta In questa provincia E l'esperienza Madurata Anche nel ruolo Che ricopro Che ho ricoperto Mi ha dato Quella spinta Per intraprendere Questo percorso Perché ho potuto Vedere da vicino Quali sono Le sfide quotidiane Che le nostre comunità Devono affrontare Ogni giorno Quindi credo Di avere L'energia E la visione necessaria Per affrontare I prossimi impegni Per rimettere La provincia Al centro Così per dare Un legame Diciamo Al nostro progetto Alla mia presentazione Credo E auspico In una provincia Dove tutti Abbiano accesso A servizi Efficienti A scuole Di buon livello A infrastrutture Moderne E sostenibili Valorizzando Comunque Le risorse naturali E culturali Del nostro territorio Sto partecipando Al progetto Su richiesta Diciamo Degli organizzatori Degli allenatori Come a mano definirsi Mariano Franco E anche lo stesso Alessandro Al fine di portare Maggiore riflessività E maggiore attenzione Ai territori Questo perché Purtroppo Oggi Quella che doveva essere Una filiera politica Produttiva Per il territorio Sta diventando più Una filiera di obbedienza A delle dinamiche Che poi anche I singoli consiglieri I singoli cittadini Mal comprendono E poi Non vengono gestite Quindi Molto importante Che si possa trovare Una situazione Anche all'interno Della provincia Per occuparsi Di quelle situazioni Su tutti I rifiuti L'acqua Che Sono rimaste In carico Della provincia Che devono essere Affrontate Con la maggior razionalità La maggior Ascolto possibile Dei territori E dei cittadini Con questa stessa lista E candidata Anche Monia Batassa Consigliera del Comune Di Gualdo Non presente Alla conferenza Per motivi lavorativi Dal 27 al 29 settembre Santa Maria in Piana Diventa la capitale Del gusto Per la tredicesima edizione Del Festival Il Festival della Carne Bovina Di Razza Marchigiana Che promette Tre giorni Di pura spensieratezza Per adulti E bambini Le giornate Saranno animate Da live band E DJ Che vi accompagneranno Fino a notte inoltrata Per informazioni È possibile visitare La pagina Facebook Santa Maria In Piana Treia Riaprirà ad ottobre Il secondo sportello Per le implese Liberi professionisti Denominato Fondo Nuovo Credito Che ad inizio 2024 Ha visto esaurire Le risorse estanziate Pari a 20 milioni In pochi settimane A comunicarlo È l'assessore regionale Al credito Goffredo Brandoni Le richieste Di accesso All'agevolazione Potranno essere presentate Solo online Sul portale Credito Futuromarche Punto it Gli studenti Delle sedi Di San Severino Camerino E Matelica Dell'Ipsia Pocognoni Hanno avuto L'occasione Di incontrare Il regista E scrittore Maglio Castagna Presso la sede Di Matelica Nell'ambito Del progetto SIAE Ciac Azione L'evento Ha visto Castagna Condividere con i ragazzi Aneddoti Della sua carriera Nel mondo del cinema L'incontro Si è rivolato Anche un'occasione Importante Formativa Per gli studenti Mogolle racconta Mogolle Giulio Rapetti Lo ha fatto Raccontando se stesso Ieri sera Al teatro Vaccai Di Tolentino E' stato accompagnato Sul palco Dalla cantante Monia Angeli Da Stefano Nanni Al piano E da Mirko Guerra Alla chitarra Ma scopriamo di più Nelle interviste Di Luca Romagnoli Il mondo cicletta Dice a capire Di patro Amara E' tua sedice Fabio Tiberi Il coordinatore della rassegna Musica 1 Concerto finale Doveva essere in piazza Però poi per via del maltempo Spostato al teatro Vaccai Comunque pubblico Delle grandi occasioni Per una serata straordinaria Dedicata a Mogolle Si è un vero onore Per tutta la città Credo Di ospitare Diciamo Un monumento Della canzone italiana Mogolle ci racconterà Delle bellissime cose Ci racconterà Come si scrive Una canzone E quindi Siamo tutti quanti In attesa Di ascoltare Dalle sue parole Un pochettino Come avviene Questa magica Alchimia Delle parole Che si accostano Alla musica E' un personaggio Che ho avuto modo Di scambiare Quattro chiacchiere Con lui E da questo punto di vista Molto 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 Legato Al connubio Musica e parola E questa sera Mi auguro Sono certo Anzi Che vivremo un bel momento Qui al teatro Vaccai Maestro Benvenuto a Tolentino Pubblico Delle grandi occasioni Il teatro Vaccai Vestito a festa Per sentire il racconto Di un grandissimo Interprete Della musica italiana Si Sono molto contento Che Ci sia Arrivata Tanta gente Ho visto Che la vostra È una bellissima città Non conoscevo Sì Passavo di solito Sulla Superstrada Però Non la conoscevo Invece Ho visto Che è molto bella Ci sono edifici Storici Molto belli Mi ha fatto piacere Ho Parlato Ho cenato Con il vostro sindaco Persona intelligente E molto capace E quindi È un'impressione Molto positiva 1500 canzoni Impossibile raccontarle Solo in uno spettacolo No Certamente Ne canteremo 13 E parlerò di queste 13 Che canta Questa Cantante Che è molto brava E Spiegherò il senso delle parole Perché l'ho scritto Cosa pensavo Se fa parte della mia vita Quelle cose Insomma Che poi la gente interessa Siamo intorno a noi Al di là dei limite Negli occhi tuoi Nasce il sentimento Nasce il vento al bianco E si innalzatissimo Papà Che vola sulle muse Degli acenti Tutti i suoi raggi Indifferenti Sono in tutta madre E il tuo amore Che difende E il tuo amore Indubbiamente Tolentino Ospitando il maestro Mogol Stasera Porta In prima fila In prima fila Le parole E la musica E forse Mogol È stato colui Che con le sue parole Ci ha portato Più lontano di tutti Perché è a metà Fra una poesia ermetica E un soffio di vento Io ho cenato con lui Ed è veramente Una persona eccezionale Polietrica Nella mente 88 anni Ma Una freschezza Intellectuale Sabato prossimo 28 settembre In occasione Delle giornate europee Del patrimonio Apertura straordinaria Del parco archeologico Di Settempeda L'iniziativa D'ingresso gratuito Viene presentata Dalla soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paisaggio Dalle ore 9 Alle ore 12 Saranno coinvolti Anche gli istituti Scolastici Settempedani Il punto di incontro Per le visite È la chiesa Di Santa Maria della Pieve Lungo la Settempedana E da domani Sono in vendita I nuovi abbonamenti Della stagione Teatrale Del Rossini Di Civitanova Marche A Paolo Ruffini Il 12 novembre Il compito Di inaugurare La stagione Con Ding Dong Down Giocare con la musica E le canzoni Impresa facile per Elio E la sua band Di giovanissimi Che il 10 dicembre Si divertono in Quando un musicista ride Ti sposo ma non troppo Con Vanessa Incontrada E Gabriele Pignotta L'8 gennaio A dar corpo e voce Il Fiumatia Pasquale Di Pirandello Sarà il 6 febbraio Gepli Gleiesis Un cast al femminile Per la commedia Fiori d'acciaio In scena Il 7 marzo Spazio al musical Il 18 e 19 marzo Con Gris Della compagnia Tolentinate Dell'Arancia A concludere Il cartellone Il 10 aprile La milonga Del football Raccontata Dalla voce Di Federico Buffa Appuntamento Fuori abbonamento Per le feste Di Natale Il 20 dicembre Con lo schiaccianoci Del balletto Di Mosca E il festival Civita Nuova Danza Volce al termine Sabato 28 settembre Con Focus Alessandro Sciarroni Tre lavori Dell'artista eclettico Coreografo geniale Attivo nell'ambito Delle performing art Leone d'oro Alla carriera Per la danza E dopo il successo Della prima edizione Scolinare Film Festival Torna con una novità Cambia location E raggiunge Il centro storico Di Tolentino Dove dal 4 al 6 ottobre Proporrà proiezioni all'aperto Eventi di piazza Incontri e laboratori Aperti alla cittadinanza Come ci hanno raccontato Nei nostri studi Due degli ideatori I prossimi 4, 5 e 6 ottobre La città di Tolentino Ospiterà per la prima volta La seconda edizione Dello scolinare film festival Quest'oggi qui in studio con noi Damiano Giacomelli E Leonardo Accattoli Due degli ideatori E co-direttori artistici Di questo festival Che nella sua prima edizione Ha riscosso davvero Grande successo di pubblico Iniziamo con te Leonardo Come è nato questo festival? Nasce da un'idea mia Di Damiano Giacomelli E di Maurizio Petrini L'anno scorso Il Brian Buru a Pollenza E da lì a un anno Siamo riusciti a mettere in piedi Questa prima edizione In collaborazione con la Prologo Col Comune Con tanti enti Che anche quest'anno E enti e associazioni Che quest'anno Insomma Ci riappoggiano Sono state tre giornate Molto belle Con una giusta Vena punk Che hanno Insomma Hanno riempito Le piazze di Pollenza E' un festival Che si caratterizza Soprattutto per La sua volontà Di essere Cittadino E urbano C'è questo grandissimo Rapporto Tra cinema Proiezioni E pinta di birra Non a caso Insomma Essendo nato in un pub L'abbiamo impostato così E quest'anno Lo portiamo avanti L'anno scorso Nato in collaborazione Con Brian Buru Quest'anno Spostandoci a Torrentino Lo faremo in collaborazione Con il Green Room Quindi ecco E' un festival Che unisce Più cose Non si tratta Solo di proiezioni Ma si tratta Di una serie Veramente di eventi Sono tre giornate In cui C'è la possibilità Di spaziare In ogni direzione Damiano Entriamo quindi Più nello specifico Di questo ricco programma Delle tre giornate Aperitivo inaugurale Venerdì 4 ottobre A partire dalle ore 19 Proprio al pub Abbiamo cercato Di Stiamo cercando Un po' Di caratterizzare I diversi spazi Del festival Non facendo un copy and colla Dalla prima edizione Insomma La bollenza Portato qua Pari pari Ma cercare Insomma Di Identificare Ogni spazio Con Le caratteristiche Di Quello che troviamo A Torrentino Io a Torrentino Vivo Da qualche decennio Complice Officine Mattoli Che è il progetto Che portiamo avanti Dal 2010 Qua di formazione Cinematografica E non solo E quindi un po' Alcune zone Le conosco meglio Su alcune zone Diciamo C'è anche Un valore affettivo Maggiore E il festival Abbiamo deciso Di calarlo Soprattutto su una zona Di centro storico In cui io Da quando vivo a Torrentino Non mi è mai capitato Di vedere festival diffusi Diciamo all'aperto Quindi in vari punti Del centro storico La zona va Per chi è di Torrentino Diciamo Dal Green Room Idealmente Fino a Piazza Madama Quindi occupa Attaversa della Croce Tutti quei vicoli Che arrivano Poi al centro Santa Teresa E in questa zona qua Abbiamo 4 location Principalmente In cui facciamo diverse cose Una di queste 4 Quella che citavi tu Che appunto È una sorta di portale D'ingresso Del festival Perché noi faremo Delle sonorizzazioni Dal vivo Accanto al Green Room Pub Sostanzialmente Che collabora attivamente Tra l'altra organizzazione Del festival In mezzo a tutte queste cose Che abbiamo detto L'augurio nostro È che si creano Si creino degli scambi Delle reti Il senso di fare Un festival diffuso Un centro storico È che le persone Poi si incontrano Vengono fuori Altri progetti Vengono fuori Altre energie I festival Dovrebbero servire a questo A parte timbrare Il cartellino Sul singolo evento Anche che intorno Agli eventi Uno crea Una rete di relazioni Di energie positive Che sicuramente Può aiutare Sia la nostra idea Di cinema Sia allargare Proprio la visione Rispetto a come è adesso Ma ci auguriamo Un futuro anche per il festival Più ampio E diversificato Come auguro anch'io Come Nappiano Che ci sia Un giro ampio Che non coinvolga Solo appassionati di cinema Ma appassionati in generale Neanche di art Proprio appassionati in generale Gente che abbia voglia Di conoscere E di Appunto E di aprirsi nuove strade Riparisco in chiusura Di seguirci quindi Sui vari social Di prenotarsi Per tutti quelli che sono Le attività Che prevedono prenotazione Per ringraziare Tutte le istituzioni Le persone che ci sostengono Quindi a partire Dalla regione Marche Fondazione Marche Contura Marche Field Commission Insomma già il secondo anno Che ci appoggiano Il comune di Olentino Come ho detto prima Tutte le associazioni Che comunque fanno parte Della rete I nostri sponsor E tutte le persone Che stanno lavorando A scollinare Insomma affinché Quest'edizione sia Con successo In questi giorni Una delegazione guidata Dal sindaco Di Tolentino Sclavi E composta Dal comandante Isidori E dal nuovo Vice comandante Mari Della Polizia Locale Si è recata in visita A Modugno In occasione Dei festeggiamenti Dedicati ai Santi Patroni San Rocco San Nicola Da Tolentino Ad accogliergli Il sindaco Nicola Bonassia Ed il vice sindaco Giuseppe Montebruno Che hanno sottolineato I legami di amicizia Che legano Queste due realtà La delegazione Ha poi partecipato Alla Santa Messa Solenne E al rito Della consegna Delle chiavi È stata inaugurata Invece Nei giorni scorsi La mostra collettiva Di arte contemporanea Fotografia e documentaria Liberazione e libertà Promossa dall'AMPI Con il Comune Per celebrare L'ottantesimo anniversario Della liberazione Della città di Tolentino Avvenuta il 30 giugno Del 1944 La mostra è allestita Alle grotte Di Palazzo San Gallo E sarà visitabile Fino al 6 ottobre È aperta al pubblico Con ingresso gratuito Nei giorni feriali Dalle 18 alle 20 E i prefestivi e festivi Dalle 11 alle 13 E dalle 18 alle 20 Sono 54 i maceratesi Over 65 Che hanno preso parte Al progetto di turismo Sostenibile Promosso dall'assessorato Alle politiche sociali Del Comune di Macerata Con destinazione Terme San Giacomo Di Sarnano L'iniziativa Anche in questa edizione Ha riscosso Grande successo L'IRC Ha avuto ruolo centrale Nell'organizzazione Del progetto Gestendo il servizio Di accompagnamento Anche con i ragazzi Del servizio civile Vediamo invece ora Le previsioni meteo Per domani E dopo Un'avrebbe pausa Pubblicitaria Lo sport Previsioni per venerdì 27 settembre Cielo poco o parzialmente Nuvoloso Con maggiori addensamenti Nelle zone montane Non si escludono Brevi ed isolati Piovaschi A ridosso dei rilievi Temperature in aumento Con venti sud-occidentali Nelle zone interne Piovaschi 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 Piovaschi